Pronti? Uno, due, tre! Pitti Foto SM, Pacchi anche a tabellone, il numero 8 di Pacchi che finisce anch'esso a tabellone, ma Pitti Foto imposta subito un ritmo interessante con i 400 in 32,7, 15,6 la frazione, per il momento non ci sono cavalli da dietro che possono venire a impensierire il leader, anche se c'è la mossa nel frattempo di Pablo Dete che ha preso la via del largo. 48,9 i 600 con Pablo Dete che sfila al comando, si fa scavalcare Pitti Foto SM senza opporre la ben minima resistenza all'allungo del numero 4 con gli 800 in 1,3 scarsi con qui in 13,6 la frazione, improvvisa accelerazione da parte di Pablo Dete che sfilato al comando davanti alle tribune va a transitare ora al primo chilometro, in 1,18,7 la via del largo nel frattempo da Peter Pan Alca con gli altri cavalli che appunto seguono nelle retrovie, vale a dire sia Pino Orlandi che Pan di Giri Falco, i due cavalli più attesi. La frazione in 15,6 per il numero 4 di Pablo Dete, sempre Pitti Foto in seconda posizione lungo i brilli con all'esterno Peter Pan Alca che ora va ad apparigliare in seconda posizione l'allievo di Francesco Pettinari, la frazione in 14,8 con la mossa ora da parte di Pino Orlandi, terza ruota all'esterno, vento in faccia per l'allievo di Davide Di Stefano che avanza a grandi folate, va a scavalcare il resto della compagnia, il miglio in 2,4 abbondanti, 14,9 di frazione al completamento della curva finale Pino Orlandi si trascina il compagno di allenamenti Pan di Giri Falco, i due più attesi che se la vanno a giocare in addirittura di arrivo con Pino Orlandi che scappa via, Pan di Giri Falco che ci prova, va su Pino Orlandi, i due cavalli che se la vanno a giocare, Pan di Giri Falco va su Pino Orlandi e passa e chiude la partita, Pan di Giri Falco, Pino Orlandi e Piramo terminati nell'ordine. 2,41 il tempo totale da parte del vincitore, 1,17 il raguaglio al chilometro, l'ultimo quarto in 33,16 per l'addittura di arrivo, Pan di Giri Falco, Gian Paolo Minucci, 4,57, la quota al tot nazionale, al secondo posto il numero 11 di Pino Orlandi e al terzo il numero 1 di Piramo. A 22,28 di vincente con una grossa quota per quel che concerne il piazzato da 4,05 a 7,41, un'attrice che pagherà sicuramente bei soldini per l'inserimento del numero 1 che sicuramente non era uno dei cavalli più attesi, ma la bella vittoria di Pan di Giri Falco che è tornata al successo, l'ha presa dritta quest'oggi e si è confermato cavallo sicuramente di grande qualità e è andata a vincere nei confronti del compagno di allenamenti numero 11 di Pino Orlandi. E tutto per questa terza corsa, la linea la possiamo dare senz'altro ad Emanuele Cardona per le interviste di rito del dopo corsa. Grazie.